Non ha fatto in tempo a festeggiare il suo quarto compleanno, il piccolo ricoverato all'ospedale Santo Bono di Napoli. Il bimbo era stato portato sul posto nella serata di venerdì dopo aver battuto la testa in seguito a una caduta. Era sullo scooter assieme al padre, nel quartiere vasto, tra via Parma e via Pavia, quando il mezzo si è scontrato contro un'automobile. Secondo le primissime ricostruzioni, l'impatto tra la vettura e il ciclomotore sarebbe stato improvviso e violento, tanto da sbalzare il bimbo a diversi metri di distanza dallo scooter su cui si trovava pochi istanti prima. La corsa in ospedale è stata febbrile, con gli stessi agenti della polizia municipale a corsi sul posto che hanno fatto da scorta all'auto su cui si stava trasportando il piccolo, nel tentativo di agevolare il viaggio verso il Santo Bono. Ma sin dal momento del suo ricovero le condizioni di salute del bimbo non avevano dato segni di miglioramento. I medici del presidio ospedaliero pediatrico lo hanno operato e rianimato più volte, ma alla fine non c'è stato nulla da fare. Il piccolo è deceduto in seguito alle gravi ferite riportate alla testa in seguito alla caduta dal veicolo. Sia il padre del bambino che l'automobilista coinvolto nell'incidente saranno denunciati per omicidio stradale. La polizia municipale della sezione San Lorenzo ora è al lavoro per ricostruire le esatte dinamiche della vicenda. Ispezionati dagli agenti, i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero rivelarsi fondamentali.